amici di youtube ben trovati da marco liguri più atteso di sergio aghero che trova jürgen klopp nei premi della weekend league lo scarta ecco un nuovo video sul mio canale amici youtube prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 600 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo amici youtube in questo video recensiamo i tots della liga i tots della liga sono stati rilasciati un po a sorpresa molti si aspettavano la bundesliga invece abbiamo il campionato di messi de jong griezmann eccetera e andiamo pertanto ad analizzare ogni singolo giocatore per fare una sorta di continui pegnacquitti come dice il grande maurizio costanzo salutiamo il grande maurizio costanzo amici youtube iniziamo con ter stegen dunque più che soffermarmi sulle sue statistiche voglio raccontarvi la mia esperienza personale fino a questo momento maggio 2020 soltanto tre portieri mi hanno dato sicurezza a fifa 20 ho idea che solo tre portieri parino veramente bene a fifa 20 sono ter stegen o van der sarri con a media e alison tots ovviamente stando a questi presupposti ter stegen credo debba necessariamente parare meglio della carta oro ovviamente questa weekend league anche quello che faranno i pro ci dirà se ter stegen sarà una primissima scelta al momento amici youtube vi ripeto ho trovato affidabilità soltanto con questi tre portieri e credetemi ne ho provati tanti ho provato gli asci non ho provato mai con la versione momenti con amici youtube stranamente non paravano e quindi ci si aspetta tanto dalla carta di ter stegen che al momento viene venduta a circa 300.000 crediti ovviamente nei prossimi giorni il prezzo calerà analizziamo la difesa iniziando da carvajal la difesa a mio parere è il reparto più interessante della liga santander vediamo carvajal ha delle statistiche che mi ricordo quelle di un altro tots 30 alexander arnold giocatore che io ho acquistato e che giocatore con cui ho deciso di sostituire zambrotta dopo tantissimi mesi amici youtube niente da dire le statistiche di carvajal sono molto buone il suo prezzo è di 320 mila crediti a mio avviso un po alto soprattutto in relazione al giocatore questo giocatore è molto forte ovviamente scelta obbligata qualora abbiate una liga ovviamente qualora non vi piaccia se meto se meto in versione headliner ma amici youtube tenete presente che l'ibridabilità dei giocatori spagnoli a me non fa impazzire ovviamente eccezione fatta per sergio ramos che recensiremo tra qualche secondo in meno rispetto ad alexander arnold a tre stelle di piede debole non un granché per un terzino per il resto ottimo giocatore ma come detto amici youtube il problema risiede nell'ibridabilità e nel prezzo a mio parere troppo alto 320 mila o 330 mila crediti decisamente troppo poi valutate voi sergio ramos premesso terminato fifa 18 con il tots di sergio ramos quindi conserva un meraviglioso ricordo di quella carta quella carta fu in assoluto il miglior difensore che io giocai a fifa 18 per la cronaca lo affianca con rio ferdinand di cona prime niente da dire le statistiche sembrano assolutamente mostruose ovviamente statistiche fanno onore ad un grande giocatore grande giocatore che nel corso della sua carriera ha avuto una un cambiamento di ruolo ha iniziato come terzino destro poi è diventato uno dei difensori centrali più forti al mondo amici youtube diciamo anche uno dei difensori più nervosetti che si siano mai visti niente da dire grandissimo giocatore vale più di un milione ma credo che siano crediti ben spesi infatti avevo fatto il pensiero malignazzo di riacquistarlo e di costruire la difesa intorno a lui poi ho deciso di andare avanti con la premier e tra qualche giorno vi svelerò la mia nuova squadra baggatone pazzesco diego carlos già in precedenza la sua carta 84 poi diventata 86 carta cammino verso la finale di europa league era davvero pazzesca davvero baggata e questo toz sembra davvero mostruoso uniconeo questa carta viene venduta ad oltre 900 mila crediti però è brasiliano uno sicuramente al momento il miglior centrale brasiliano del gioco quindi davvero tanta roba tanta roba come dice mario giordano il giornalista con la voce di un bambino quattro stelle piede debole in america definirebbero questa carta insane infatti al momento è il miglior brasiliano di fifa 20 il miglior centrale brasiliano di fifa 20 quindi carta sicuramente che sarà giocatissima consigliatissima youtube ho giocato la carta 86 per molti mesi già in versione 86 era un difensore affidabile adesso sembra assolutamente mostruoso davvero tanta roba tanta roba 900 mila crediti ma in questo caso davvero ben spesi discorso a parte per reguillon giocatore che si ottiene gratuitamente con gli obiettivi amici tubo acquistato robertson tozze vedere un giocatore gratuito che molto probabilmente sarà riscattato da tantissimi vedere un giocatore gratuito più forte di robertson che io ho pagato con i frutti della compravendita mi fa girare i coglioni tanti ovviamente faranno i gradassi con reguillon lo schiereranno nelle loro squadre molto probabilmente tante squadre oro con reguillon oppure con i vari maeda torsby e robaccia varia queste cose amici tubo a me non piacciono a me piace dominare piace schiacciare gli avversari così come avveniva a fifa 18 ma purtroppo la e sports non la pensa come me ovviamente questa è una carta pazzesca endgame mi ricorda giordi alba toz di fifa 18 e di fifa 19 ma come detto la e sports ha deciso di regalarla buon per loro carta mostruosa ovviamente qualora abbiate tempo non riscattatela così avrò meno possibilità di incontrarvi in weekend league e di farvi il culo sto scherzando ovviamente le possibilità sono risibili questa carta è davvero forte se avete la possibilità riscattatela ovviamente qualora abbiate i link sicuramente un regalo un regalo straordinario che vi fa la e sports veniamo al centrocampo de jong e di gran lunga la carta più forte diciamo come centrocampista il centrocampista più forte della liga santander quest'anno carta eccezionale carta perfetta peccato per il tre stelle di piede debole per il resto vale ogni singolo credito ovviamente molto simile alla carta toti carta pazzesca carta che conosciamo bene qualora abbiate una liga de jong non può mancare nel vostro centrocampo il livello si abbassa con tony cross onestamente un giocatore che a me non è mai piaciuto principalmente per la sua lentezza anche se nella versione tots riesce a compensare con un 90 di accelerazione amici tube spicca quel 37 di elevazione roba che mia nonna di 81 anni sicuramente avrebbe un una valutazione più alta infatti non si capisce perché tony cross non riesca a ad elevarsi da terra forse ha problemi con la forza di gravità tornando seri questa carta comunque sia ha il suo perché ottime le statistiche di resistenza e di forza 5 stelle di piede debole dove è finito eccolo qui 5 stelle di piede debole passaggi controllo palla ai massimi livelli ma a mio parere questa carta non sarà da meta come non sarà da meta pareco che vedete 64 di velocità scatto roba che se fa gara se fa una gara di velocità con una capra svizzera molto probabilmente viene viene battuto quindi amici tube una carta che a mio parere non serve a molto proprio per scarse abilità di velocità scarsa agilità e doti fisiche così così un giocatore che molto probabilmente non giocherà nessuno l'attacco invece merita l'attacco è eccezionale eccezionale amici di youtube per dirla alla sandro piccinini iniziamo da messi che ovviamente è un discorso a sé messi ovviamente è un cheat code pazzesco soprattutto in versione tots ovviamente una carta inaccessibile ai più ma una carta che vi auguro di trovare nei nei pic di giovedì prossimo onestamente spero di trovarla anch'io un giocatore costosissimo fortissimo ovviamente il solito fenomeno griezmann è molto interessante sebbene griezmann abbia un difetto di fabbrica piuttosto grave ovvero tre stelle di piede debole amici tube per come è impostato il gameplay di fifa 20 avvantaggia maledettamente i giocatori con cinque stelle di piede debole infatti ho acquistato bappe e ne pensate amici tubo l'ho pagato davvero tanto l'ho pagato quasi 5 milioni non ci si crede ho acquistato un bappe anniversario di foot dove vado a mostrarvi il mio nuovo bappe nuovo di zecca eccolo qui amici tube perché perché questa carta è assolutamente un cheat code con cinque stelle piede debole è assolutamente irreale davvero un cheat code che ho deciso di acquistare quindi griezmann ottimo benzema ovviamente altro grande giocatore ottime le statistiche giocatore completo attaccante completo alto quattro stelle mosse abilità quattro stelle piede debole l'altra carta che non menzioniamo in attacco è su ares due giocatori di altissimo livello ovviamente qualora abbiate una liga santander valutate se acquistare benzema o su ares tra i due preferisco leggermente benzema si tratta di due giocatori mostruosi c'erano altri giocatori molto interessanti tipo fechil che però tutto sommato non mi faceva impazzire quindi ho deciso di recensire ad esempio pareco così avevo un buon motivo per denigrare le sue statistiche di velocità a parte questo amici tube se volessimo fare un parallelo tra i tots della premiera i tots della liga diciamo che meglio in difesa la liga con sergio ramos ter stegen carlos assolutamente mostruosi meglio a centrocampo i giocatori di premier league con i vari de bruin con kovacic altro ottimo giocatore in rapporto qualità prezzo anderson tutti giocatori interessanti inviti a mio parere un pelino meglio i centrocampisti della premier rispetto a quelli della liga in attacco poi è un discorso di preferenze da una parte obama young salaga e romane dall'altra su ares griezmann benzema o messi voi quali preferiti amici tube io vi ringrazio per l'attenzione spero che questa recensione dei tots della liga possa aiutarvi magari aiutarvi a scegliere amici tube rimanete in ascolto non cambiate canale c'è la terza parte di faccio le vostre squadre ciao a tutti bene eccoci al terzo episodio di faccio le vostre squadre la squadra del giorno è quella del signor cipolla che in realtà si chiama nino cerino e ci segue da bagnoli una buona squadra di premier le migliorie che apporterei alla squadra del signor cipolla sono via la porta la porta ora come ora non è competitivo dentro soyuncu giocatore che io stesso sto utilizzando davvero una lieta sorpresa la buona notizia che non ha non ha costi esorbitanti soyuncu si riesce ad acquistare a circa 150 mila crediti sicuramente meglio di la porta ora il miglioramento è davvero eccezionale come terzino test via walk e prova gioco anselo tra i due preferisco di gran lunga gioco anselo ho giocato entrambi non c'è storia gioca anselo ancora oggi riesce in qualche modo a reggere l'urto quindi consigliato canselo all'opposto di walker la buona notizia è che hanno un costo simile a centrocampo ti suggerisco di sostituire osil e di acquistare kovacic kovacic in versione tots è davvero eccezionale davvero baggato pensate è stata fatta una statistica e kovacic ha le stesse statistiche in game della carta momenti icona di essien pazzesco è la differenza che kovacic costa solo 170 mila crediti o qualcosa in più quindi un fenò davvero a buon mercato già così la squadra è più solida più competitiva l'ultima miglioria che ti consiglierei di fare è un minson per obama young due attaccanti sicuramente ancora oggi molto affidabili anche nelle loro versioni oro ma ai punti preferisco è un minson ringraziamo il signor cipolla che tra l'altro ci segue da molto tempo spero che le migliorie che ti ho consigliato possano fare la differenza ovviamente amici youtube partecipate anche voi scrivete nei commenti quali consigli a porterista per migliorare la squadra del signor cipolla mandatemi e continuate a mandare le vostre rose su instagram il prossimo ad essere pubblicato potreste essere voi ciao a tutti